Benvenuti amici di Telecittà e Facebook. Oggi Buffa si trova a Sortino ad intervistare un grande uomo perché vi devo raccontare un aneddoto. Ero fuori ad aspettare perché il sindaco mi ricevessi e alcune persone mi hanno detto stai intervistando il sindaco Buffa, sì, ricordati che il sindaco è un uomo ben voluto a Sortino io vogliono bene tutti, quindi io posso dire che c'è Moschettiere perché c'è Cannato che vogliono bene, Carto che vogliono bene e Parlato che vogliono bene. Incominciamo a parlare oggi del miele, chi dice miele di Sortino è un binomio ormai che si porta avanti nel tempo, vero? Vero, vero perché Sortino è la città del miele, città per giunta fondatrice dell'Associazione Nazionale Città del Miele che tanti anni fa contava circa 10 città, oggi ne conta quasi 50. Io attualmente sono il presidente dell'Associazione Nazionale Città del Miele per cui abbiamo veramente un ruolo di primo piano. Ultimamente abbiamo avuto anche un altro riconoscimento che ha sancito ancora una volta questa grande peculiarità di Sortino, il miele degli Iblei, il miele di Timo, è diventato il 49esimo presidio slow food siciliano. Questo a testimoniare che il miele di Timo rappresenta per noi una peculiarità esclusiva del territorio, anche perché un miele non è solamente una sostanza da ingerire, ma racconta anche un territorio, per cui anche mieli uguali, ma in territori diversi hanno storie diverse. E su questo noi abbiamo fondato tutta la nostra attività promozionale del territorio con la Sagra. Quest'anno giunti alla 38esima edizione, una Sagra importante perché quest'anno per l'inaugurazione vedrà presente anche il sindaco di Riedstadt in Germania con cui siamo gemellati e il prossimo anno compieremo 25 anni di gemellaggio, per cui per l'occasione sarà presente a Sortino. Come saranno presenti a Sortino? Grazie a Pizza Food Festival i migliori pizzaioli italiani, pasticceri e gelatai, perché presenteremo alla stampa nazionale il pizzolo. Altra eccellenza dove sia nella parte salata che nella parte dolce utilizzerà il miele come strumento principale. Ritengo che i numeri di quest'anno siano importanti sia in termini di visitatori, perché già stiamo ricevendo diverse adesioni, per cui contiamo di raggiungere l'obiettivo di 20-30 mila visitatori nella tre giorni 28, 29 e 30, e poi sarà un carnet ricco di appuntamenti perché avremo la sfilata di moda e miele, avremo la sfilata storica di carrette siciliane, più vari gruppi itineranti, in più avremo gli stand e non gastronomici, ma puntando questa volta anche non solo agli stand del miele in piazza Giovanni Verga, ma ci saranno stand anche dei dolci al miele, altra peculiarità di Sortino. Scusa, Sindaco ho parlato, non mi farei un altro cosa ben voluto, perché la gente che ci sta vedendo da telecittà è tutta la provincia, però Facebook, tu sei benissimo, ci vende tutta Europa, e quindi ci saranno gli emigranti che ci stanno ascoltando. Ma la storia di questa sagra, tu sei di Sottino, scusa che ti tolto il tuo, perché se è televisione a me, non so se andare da lei, però io sono tesa tesa, quindi mi piace essere... Una chiacchierata picchievole. Bravo, bravissimo. La storia di questa sagra, questa sagra nasce 38 anni fa per volontà dell'allora Proloco, con l'aiuto di casalinghe, che organizzarono questa festa di paese preparando panate, vigiolate, e poi il miele come protagonista. Tenete conto che quando iniziò la sagra, perché nasce? Nasce perché la domanda di miele era bassissima, mentre l'offerta era tanta, per cui avevano attivato gli amministratori dell'epoca un canale di promozione per implementare le vendite. Di fatto oggi la situazione, dopo 38 anni, si è totalmente ribaltata. La domanda è tantissima, l'offerta è diminuita, anche se è aumentata qualitativamente, e di fatto oggi l'Italia importa miele da paesi stranieri, perché non riesce a soddisfare il mercato nazionale. Per cui la storia fondamentalmente nasce da questo, dalla volontà di tanti cittadini che all'epoca si misero insieme per dar vita a questa grande festa di paese. La gente che non lo sa, possiamo dire che la sagra di miele è un appuntamento annuale, ma quando i visitatori ci sono ogni volta, che io ricordo una volta, sono venuti 5 anni fa, tanta gente, tanta gente. Si prevede qualcosa di boom quest'anno? Allora, prevediamo quest'anno più gente, proprio perché abbiamo inserito quest'altra manifestazione che ti dicevo prima, il Pizza Food Festival, che è una manifestazione collaterale alla sagra perché viene svolta in piazza Cappuccini, per cui distante da dove ci sono gli stand, proprio per consentire ai giornalisti di poter vivere in un ambiente, se possiamo dire, ovattato, proprio perché dobbiamo puntare l'attenzione sul miele e sul pizzolo e facciamo il salto di qualità. Per cui già questa manifestazione che vedrà protagonisti, come ti dicevo, i migliori pizzaioli italiani, Gabriele Bonci e Mirko Della Vecchia, per esempio, oggi alle 11.40 inizierà la trasmissione alla prova del cuoco, parleranno di Sortino perché saranno presenti a Sortino. Stamattina Mirko Della Vecchia, che è un grande cioccolataio, preparerà una torta al cioccolato con le arance ovale di Sortino, il miele di Sortino e le mandorle di Sortino. Questo che giorno si viene fatto? Stamattina. Ah, stamattina, ho capito. Giovedì verrà Rai 3 a fare delle riprese perché stanno iniziando una nuova trasmissione per cui faranno tutto il presagra. Diciamo che i numeri a livello pubblicitario e già dalle presenze quest'anno si prevedono numerosi. Anche a noi ce l'hanno detto questo qua perché dice che è un evento diverso, ci sono delle innovazioni in base agli altri anni. Il miele è denominato innettere degli roba pregiata. Qui a Sortino c'è una sorta di scuola che insegna a farlo oppure no? Oppure si tramanda da generazione in generazione? C'è una storia che si tramanda da generazione in generazione, ormai veramente da centinaia di anni. Il miele è stato sempre un binomio inscindibile, miele e Sortino. Questa tradizione logicamente oggi è anche frutto di collaborazioni con varie associazioni, tant'è vero collaboriamo noi con l'associazione regionale degli apicultori, tant'è vero il sabato pomeriggio ci sarà un convegno tecnico scientifico dove sarà presente l'assessore regionale di Bandiere, il direttore generale Carmelo Frittitta, dove parleremo proprio di prospettive dell'apicultura e del miele, lo stato di fatto e quali sono le prospettive future. Allora, stiamo avviando verso la conclusione di questa bellissima e piacevole chiacchierata che sicuramente la gente sarà, ascolterà e verrà, però vogliamo illustrare il programma della festa perché è stato un errore nostro, non abbiamo portato un manifestino o qualcosa. Ce lo puoi dire Sindaco? Sì, in breve poi il programma seguitelo comunque sul sito della Sacra del Miele, www.sagradalmiele.com dove ci sono tutti gli aggiornamenti e anche via Facebook per cui in diretta aggiorneremo. Ma di fatto si parte venerdì con l'inaugurazione alle 19.30 della Sacra, tradizionalmente ci sarà la scuola di Flauti dell'Istituto Columba che aprirà con l'Indo Nazionale, dopodiché andremo a inaugurare il primo museo del carretto siciliano per cui porteremo a quattro i musei presenti attualmente a Sortino che sarebbero l'Antiquario Museo Ortinese, il Museo dei Pupi, il Museo dell'Apicultura e adesso avremo anche il Museo del Carretto Siciliano. Dopodiché ci sarà uno spettacolo musicale in Piazza Santa Sofia. Il sabato avremo con la tradizionale corsa dei carretteri che vedrà impegnati più di 200 bambini per le vie del paese e dopodiché avremo la sfilata Modemiele con Mimmo Contestabile e con tanti ospiti per allietare la serata con gli stand enogastronomici pienamente funzionanti e tanto miele in piazza. La domenica invece avremo una sfilata di mattina di un gruppo di agrigento, un gruppo folk, un gruppo di quasi 50 elementi, molti molto bravi. Nel pomeriggio invece avremo una sfilata di carrette siciliani con dei musicisti che vengono direttamente da Cicli. Dopodiché gruppi musicali itineranti e avremo la mostra di Frida Kahlo, le migliori foto considerate che in Sicilia saranno tra gli appuntamenti di questo evento e sono Sortino, Noto e Catania dove ci sarà la moglie di Pino Insegno che poi leggerà le poesie di Frida per cui uno spettacolo all'interno della Sagra di livello culturale di un certo spessore. Questo è la domenica sera. Sindaco di Sortino, complimenti per quello che ha fatto e lei sta facendo per questa cittadina e io do l'appuntamento alle persone che ci stanno seguendo sia dalla provincia sia dalla regione Sicilia perché è importante venire a Sortino giorno 28, 29 e 30 di settembre per la Sagra del Mele. Grazie, alla prossima. Grazie Sindaco. Arrivederci e grazie a voi. Grazie. Grazie.